buongiorno siamo qua alle porte di roma c'è un vero fragello il puntarolo nero qui siamo due tassisti del comune di roma con la passione del giardinaggio ci siamo accorti che i nostri fighi in pratica spezzando alla base delle radici quindi ci siamo ingegnati abbiamo creato questo questo rimedio contro il puntarolo nero che in pratica sotto stava mangiando tutto la base del figo poi bastava una volata di vento e il figo si spezza come già è successo altri due quindi stiamo provando a salvarlo e in pratica abbiamo usato la retina quella della zanzariera abbiamo legato prima abbiamo scavato sotto ci abbiamo messo il film di ferro ma ci si può mettere anche è un elastico qualcosa e poi ci abbiamo rimesso la terra sopra speriamo che funziona noi ci sembra una buona idea con poco poca spesa cerchiamo di salvare questo figo una pace alla fine degli altri due laggiù anche il figo che si era sversato aveva tirato fuori un ciccio e subito il puntarolo stava credendo vicino alla radice sempre quindi ci siamo ingegnati anche qua abbiamo trovato questa soluzione anche con questo piccolino perché il puntarolo nero quanto pare attacca anche nelle piante piccole qui prima c'era il figo che si è spezzato ma ritirato fuori il ciccio e già li sta facendo i figli quest'anno questa sera sarà spezzato quest'inverno col vento sempre con la retina delle zanzariera speriamo che vi sia stato utile un saluto da roma